Dino Bitetto, l'uomo che ha guidato i giallo-blu alla vittoria dei play-off del girone H di Serie D fino al 30 giugno, poi sarà tempo di scegliere il nuovo timoniere che guiderà l'audace Cerignola 2019-2020 e tutti gli indizi sembrano portare a un solo nome. Domenico Giacomarro potrebbe essere l'artefice della prima promozione del Picerno in Serie C a occupare la panchina del club Ofantino nella prossima stagione. I contatti, avviati da circa 10 giorni, sono diventati più intensi nelle ultime ore e già nel weekend le parti potrebbero formalizzare un'intesa di base. Chiaro sintomo di una società che lavora sotto traccia in vista del 24 giugno, data in cui saranno rese note le squadre iscritte alla prossima Serie C e si avrà quindi un'idea più concreta dei posti disponibili per un eventuale ripescaggio tra i pro. Giacomarro, esperienze anche alla guida di Turris, Sansevero, Grosseto e Potenza, avrebbe convinto patron grieco proprio nel corso dell'ultimo campionato, quando il Picerno ha preceduto l'audace Cerignola in vetta alla classifica del girone H. Superata, così, la concorrenza di Leonardo Colucci ed Eziolino Capuano, il nuovo allenatore avrà a disposizione una rosa completamente rinnovata. Ai addi di Loiodice e Lattanzio verso Bitonto e di Giuseppe Abruzzese, che ha dato l'addio al calcio, si aggiungeranno presto quelli di Longo e Allegrini. Tra i possibili confermati spuntano i nomi di Tedone, Pollidori e Carannante, mentre in entrata sono già tanti i nomi avvicinati al club Ofantino e alcuni fanno davvero sognare i tifosi. Da Nicola Strambelli, nell'ultima stagione alla Regina, a Fabio Mazzeo del Foggia, la ruota del calciomercato è pronta ad azionarsi ad alta velocità. Prima, però, il Cerignola attende di conoscere la categoria alla quale sarà destinato.